E poi come nuovo progetto è un altro film? Sì, è una storia, è una canzone che farà parte di una colonna sonora di questo film, una canzone che è come un discorso a Dio, è una storia molto importante, tratta una storia di questa ragazzina, l'avevamo sentita penso tutti quanti, che era stata data in adozione a questa famiglia di Alassio. Ecco, la cosa importante di questo film, innanzitutto perché parla di questa storia di questi bambini russi di Chernobyl, che è un grande dramma davvero, che forse noi non ne siamo molto a corrente, questi bambini che vengono dati in affido, non vengono abbandonati dalle famiglie, ma vengono dati in affido a queste famiglie che abitano vicino al mare, proprio per, se mai possibile, poter essere un po' decontaminati, è una cosa molto triste, ma è un film che insegna anche a non giudicare in fretta, perché noi tante volte, io per prima esprimo dei giudizi e poi mi accorgo invece che sbaglio sempre, questo fa molto riflettere, perché subito sembrava fossero dei bambini senza amore da parte delle loro famiglie, invece le loro famiglie le amano tantissimo, ma non hanno la possibilità di aiutarli come possono invece queste famiglie. E' un po' come la casa famiglia che sono alla casa questa sera del progetto dell'Unità. Come queste si imparano tante cose, sono queste le serate che insomma sono molto importanti, perché ci insegnano e ci fanno imparare veramente i veri valori della vita. Siamo qua per cercare di dar qualcosa, invece abbiamo noi. Grazie. È vero. Grazie. Il fatto di direttore autistico, che è il nostro presente maestro, che ha scelto molto bene, e poi ha invitato anche da Dante Mariti della Melosarte, che ha invitato voi ad arrivare qui qua. Benissimo. Allora, come ultimo brano, interpreti Giorgio Maimai. Giorgio Maimai con tanta umiltà, perché è un brano talmente bello che spero di non l'avere. Bravo. Grazie Ivana. Giorgio Maimai. Bravo. 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 . Bravo. 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 Bonus. Oh C'è l'esplice che non mi piace E' un'esplice che non mi piace E' un'esplice che non mi piace Sì 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 Isè Sì 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 Grazie a tutti 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 Buonanotte Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti